OffiClick è la prima vera officina mobile che arriva direttamente a casa tua frutto della ricerca e della sperimentazione di un team di esperti. Abbiamo studiato per te un processo interamente digitalizzato grazie al quale potrai usufruire di un servizio completo a domicilio e rimanere sempre in contatto con i nostri meccanici a bordo di OffiClick. Sarai informato passo passo ricevendo i nostri sms direttamente sul tuo cellulare. Tutto il sistema di prenotazione e di evasione della tua richiesta è rapido, veloce e trasparente. I nostri moduli di lavoro hanno bisogno solamente di 20 metri quadri per la realizzazione del servizio che può avvenire in uno spazio privato ma anche in un piazzale pubblico o un parcheggio e i nostri meccanici non avranno più bisogno del furgone. E anche in caso di pioggia o maltempo proteggiamo la tua auto e lo spazio di lavoro con una tensostruttura. Inoltre abbiamo sempre a disposizione un generatore di corrente per lavorare in autonomia. OffiClick è chiarezza, infatti ti verrà fornita tutta la documentazione necessaria. Potrai segnalare preventivamente ai nostri meccanici eventuali difformità della carrozzeria della tua auto che verranno messe per iscritto. Il tuo mezzo è protetto da un processo di trasparenza. OffiClick è innovazione. Le nostre tecniche di lavoro garantiscono un cambio olio pulito nel rispetto della tua casa e dell'ambiente. La nostra mission è fornire un servizio utile ed ecosostenibile, riducendo al minimo gli sprechi e la contaminazione degli spazi di lavoro. Inoltre abbiamo scelto un sistema di sollevamento sicuro e veloce che permette ai nostri meccanici di lavorare senza rischi. OffiClick è come avere il tuo meccanico di fiducia a domicilio con un processo semplice e rapido. Tra i nostri servizi sono inclusi tutti quelli che tradizionalmente sono svolti in officina. Ci occupiamo delle gomme della tua auto, realizziamo un'equilibratura professionale e possiamo anche eseguire un lavaggio a vapore senza bagnare né sporcare la superficie di lavoro. Inoltre OffiClick è cambio vetri, ricarica climatizzatore e molto altro. OffiClick è il futuro, un'officina mobile seria e tradizionale. È una vera officina a domicilio. Grazie a tutti.